British Airways alza la voce e minaccia azioni legali contro la decisione del governo di Boris Johnson di imporre a partire da lunedì 8 una severa quarantena obbligatoria di 14 giorni a tutti coloro che arriveranno nel Regno Unito dall'estero. Pensiamo sia irrazionale e sproporzionato, stiamo prendendo in considerazione di contestare legalmente questa decisione, dice l'amministratore delegato Willy Walsh. Sia i residenti che i visitatori in viaggio nel Regno Unito dovranno fornire dettagli del viaggio e i propri contatti. Le regole variano da paese a paese e alcuni stati membri dell'Unione Europea sono contrari alle misure di quarantena. Sulla questione Euronews ha ospitato in un dibattito Rita Marques, segretaria di Stato portoghese al turismo. In Portogallo non abbiamo la quarantena, non abbiamo un obbligo di isolamento quando si raggiunge il nostro paese. Pretenderemo dai paesi di origine di controllare lo stato di salute di tutti i viaggiatori. Se tutti applicassero questo tipo di misura non ci sarebbe bisogno della quarantena. La decisione del governo di Londra preoccupa molto anche Ryanair. Michael O'Leary parla di piano inutile e inefficace che rappresenta un'ulteriore minaccia per l'industria del turismo.